E' inaugurata Ok Gli lo porti tu? Gli lo porti tu? I'll come back, I promise I promise Gli appolo dai Si ma mi è back Gli appolo dai Non l'ho fatta Vida I'll be back, I promise I'll be back 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 She knows everything Allora, adesso stiamo cercando di entrare troppo nel personale Ma la sostanza è che le coppie c'erano ma non si diceva So I thought that's where it ended To make the videos Ah ok Quindi c'è stato un episodio che era sinodo di Gerak Però probabilmente era quando ormai stavano scoppiando I was the best year of my life E ho detto E ho detto Non ti ricordo niente Perché mi ha chiesto quanto siete stati fidanzati E io non si ricordava Lei ha detto un anno E lei ha detto Però vi dico che è stato l'anno migliore della mia vita E io non lo paro E io non lo pari E io non ci ricordava E io non lo pari Ma il giudice E io non lo pari E questo non lo pari E io c'è stato un paio Si è finanzato nel video l'episodio, sposato con Nicole Mi e Carlo eravamo in un momento In realtà si è casato, ma non si è riconosciato perché era molto prima E abbiamo finito Hanno preso talmente la mano per finanziarsi che anche lui e Carlo si sono finanzati Ma la mia moglie è qui, spero che non ho mai sentito Onde è la mia moglie? Io non ho finito la mia moglie prima di farlo Carlo è stato finanzato anche con la moglie prima che lui si tomasse La moglie è stato caro Non c'è quanto era molto talento, e per sapere che io ero guardato in realtà Perché se ricorda il film fame, è quello che inspira la serie So, to see, to work with me, to work with Gabby Adams, to work with Julian Anthony Ray And to work with these other actors that I've been watching on television It was a dream come true So, secondo me, this is a dream come true for you But, tonight's show is extra special because that's so long ago And to be able to bring that message back And to just watch these people who are so talented Aaron, Valerie, Carlo, Cindy, Mia, Nina It just made me proud to be part of such a wonderful franchise And such a wonderful moment in our time And something that's, they keep trying to read me, me, American Idol, etc. But it will never be the same as that first thing we did And so, it is my honor to perform again again in the talented community And to see all of these wonderful fans who still love us So, all we can do is give it back Give it back, give it back, give it back So, thank you, thank you, thank you Anyhow, from the beginning of the year And to see all of these incredible fans And you can imagine that Are you here in Italy? All right, all the people who joined the theater And you can do it And I can't wait to see it è stato un sogno realizzato perché lui ha visto il film e poi è entrato a far parte del studio TV, quindi è un po' come penso che ognuno di noi, ognuno di voi abbia un sogno e quindi voi guardate quel sogno e poi ne schiate parte, quindi questa è la meraviglia che si è poi a ritroppo ripresentata anche questa sera per la regna di Seiva. So, thanks a lot, really. Would you like to eat something else? Do you wanna, you know, confess something more about you, Carlo? No, no, I mean, the wonderful thing about this show is that it was an ensemble show, so there was no stars, there was many stars, so every time we performed, every time we did something, it was like the sky was lit up with all of these stars and the brilliance of those people, I could only hope to be in the shadow of you. And so, for me, to see how much we affected you, so many times, you fans come up and I feel like you're friends because now with Facebook, you reach out to each other and you tell each other what's going on in all of our different careers. And so for me, it just warms my heart to be able to give something back to me, like a live show, and so we hope to be able to recreate this, bring it back, you know, take it to other countries, hopefully, 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 while we still got life in these old legs. that's why we love that. So, Elka, I don't know the reason why, but all the women, all the same women, you don't Allora mi ha detto prima che mi sono accettati davvero il mio sviluppo, che mi ha detto prima, il mio avviso del mio tercio. e avere un buon sprircolpuration in mio progetti in cui provo la gioia con il bene fino alla fine quindi ti chiede molto a tutti e tutti pensi che tu fai mentalmente in here I waspiloso a dirvi una cosa quando io prima amato in Cigli e mi veniva quando eri stata quando eri in morte l'unico a un'altra vista quando eri in una pata si usted va a stare ora 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 E' solo questo praticamente E' importante perché in questa modo sei sicuro che non puoi Mi sta facendo una foto fateci il gioco alla manina Eccole E' importante cosa stai facendo e io credo che questa è la prima La prima riunione di questa famiglia con questi autori Gli chiedi a dire qualcosa di più perché io credo che questo è importante agli bambini ma è molto importante per te per te I think, you know, people have talked about this before, but it was going to take something really big to bring us all back together. Not because we don't want to be together, but because our lives are in so many different places that, and this happened to me, there was something very important and kind of magical about that, because we all could go, our schedules did work, you know, we could all get here. And that was really amazing. So I think that it's really miraculous, and we had an amazing time. So for us, once we were together, it's like no time has passed, because when you work with people 12 hours a day, five days a week, for me four years, some of them six years, you spend more time with them than you spend with your family. Thank you, Valerie. Thank you so much. Hello. So my future lover, tonight, of course, only tonight. Because one night you can't remember. More than one night you can't remember. Only one night. You are Italian. Where did you, where did your parents come from? My father came from the peoples, and my mother was from... Ok, allora, il padre di Napoli è la mamma di Roma. But you were born, of course, in the USA. In the USA, in New York. Which part of you is Italian? Be careful, please. Be careful, please. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. But my language is... That's the only thing that separates me from you. Saying that I'm 100% Italian. Genetically, 100%. Verbal. Ok. Anche in questo caso non possiamo procedere con l'intervista, quindi come nel caso di Cynthia. So, there's a censure, it's censure. So thank you so much, Carlo. Grazie. Volete fare una domanda? Volete chiedere qualcosa prima di rata via? Ok. Thank you. Thank you so much.